In conclusione abbiamo visto che ci sono diversi operai al lavoro, ci sono cantieri con imprese che stanno portando avanti delle operazioni. Sì, in ultimo la partenza del cantiere presso l'ex area del Cinema Mirage, ma legata anche a un centinaio di metri più avanti, l'operazione del PI Testa, l'operazione della Fonte Pineta. Quindi una città in movimento, credo che sia importante sottolineare come siamo riusciti con gli imprenditori a ottenere dialogo in un momento di forte crisi, di forte crisi economica non solo locale ma generale, nazionale. Trovare degli imprenditori che hanno la voglia e il desiderio di investire sul nostro territorio sia importante per dare un momento di vita ancora a Clusone, un momento particolare, quindi aver condiviso con loro queste ingenti risorse che loro stessi mettono a disposizione per la realizzazione di queste opere. Prendiamo in esame la situazione dell'ex Cinema Mirage, ricordiamo una volta per tutte cosa ci sarà qui, per esempio, cosa si sta realizzando? Allora, intervento seguito con attenzione da tanto tempo. In questi giorni si sta provvedendo allo sgombero del materiale che era all'interno dell'ex sala cinematografica. Conseguentemente la demolizione della struttura e poi di conseguenza ancora lo scavo per la realizzazione dei parcheggi interrati. Quindi è un momento di movimento in quella zona. Devo dire che l'amministrazione in cambio ne trae beneficio con la realizzazione anche della Rotonda che va a sistemare quello che è lo svincolo che ci porta, diciamo, o verso il centro storico, o verso la zona del Sole. In questi giorni tengo a sottolineare che la stessa Giunta ha approvato il progetto per la riqualificazione dall'area del viale. Tante segnalazioni ci vengono portate alla nostra attenzione, dalla pericolosità in quella zona. Quindi entro fine anno anche lì troveremo qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare, ma soprattutto qualcosa che metta in sicurezza l'area. Quindi è normale chiedere un po' di pazienza per i disagi che verranno creati e che vivremo nel prossimo periodo, ma questo è un po' il prezzo da pagare per vedere realizzate queste opere. Ecco, ma qui dove ora c'è l'ex Mirage, cosa sorgerà? Allora, è il trasferimento di un'area commerciale, di una licenza commerciale già presente sul nostro territorio. E se fosse possibile lanciare un desiderio, un appello agli imprenditori, la possibilità è che nei locali ancora oggi da costruire qualcosa per il mondo giovanile. Sarebbe ideale riuscire a trovare degli spazi, sappiamo quanti giovani ci sono al nostro territorio e soprattutto sull'alto piano. E forse un qualcosa che non sia particolarmente legato alle attività commerciali, ma che dia una degna risposta a quello che è il mondo dei giovani. Ecco, con questa operazione però per Clusone c'era ancora qualcosa da riscuotere? Sì, la precedente convenzione portava all'attenzione dell'amministrazione una realizzazione di un palazzetto per 4 milioni e 400 mila euro, assieme ad altri due attuatori. La scelta di questa amministrazione ritengo oculata di non investire tutta una cifra in un'opera del genere e soprattutto la possibilità che almeno un imprenditore abbia avuto la possibilità di partire. L'importo che si è riusciti a concordare è di 1 milione e 800 mila euro che verranno destinati sì alla realizzazione di una struttura, mi permetto di sottolineare, non soltanto sportiva. Clusone ha bisogno di un luogo dove si possono effettuare anche altre manifestazioni, eventi, concerti e quant'altro si possa legare a una struttura polivalente. Quindi omologata per le manifestazioni sportive, quindi il progetto in questi giorni è stato valutato. A breve in Consiglio Comunale verrà comunicato anche la decisione dell'area dove installare questa struttura. E quindi, ripeto, una città in movimento, una città che cerca di muoversi per cercare di uscire da queste sabbie mobili di crisi che purtroppo da troppo tempo ci stanno un po' tenendo prigionieri. Però una città in movimento, una città che sta cercando di risollevare un po' le proprie sole.